sul mio domani mami le vostre mani merci aspetta che abbasso o se gliela fate il 3 novembre sabato ci vediamo tutti al box club di nonantola per la serata selecta la selecta ve la fa DJ Fede da Torino e il rap dal vivo ve lo fa Primero da Roma sempre se ce la fate a spostare quei culi morti dal vostro computer ciao, ci vediamo il 3 novembre nonantola, box club DJ Fede Primero serata selecta mi fa stare bene avere un angolo che non mi tocchi che i tuoi occhi non sanno vedere invece guarda quanti pezzi perdiamo e quante volte se stiamo lontani